Salve a tutti. La pace ha molti innamorati. Si sa, d'altronde chi non ama la pace bisogna essere afflitti da una patologia per dire io amo la guerra. La pace ha molti innamorati, ma la guerra ha molti sponsor. Se non significasse ingenti guadagni, chi provocarebbe guerre? Questa guerra specifica non nasce un anno fa, ma nel 2014. Cosa hanno fatto allora le acute diplomazie dei paesi civili? Perché vedete nel 2014 si era nella situazione in cui vedi due amici che conosci bene, che si mettono a litigare e tu non cerchi di separarli, non li inviti al dialogo, anzi vai dall'uno o dall'altro e gli dici all'orecchio hai ragione tu, quell'altro è uno stronzo. Poi passa il tempo e uno dei due tira fuori il coltello e invece di andare da quello e dirgli metti via il coltello, risolvi la cosa, tu dai un coltello anche all'altro e stai a guardare come va a finire. 200.000 morti da ambo le parti è una questione di principio, ma è anche una questione di morti e di gente finita in miseria e di città distrutte e di una popolazione al buio. Intendiamoci, non siamo così imbecilli da assolvere l'aggressore, è palese anche a un bambino che la causa specifica di questo momento si chiama Vladimir Putin con la sua combricola di consiglieri sciamannati. Questa guerra durerà tre giorni, dicevano. Oggi, dopo un anno di guerra, è così folle chiedere il disarmo e la trattativa? Aspettiamo altri 200.000 morti e vediamo? È folle chiedere la trattativa quando lo stesso comandante in capo dell'esercito americano dichiara non esiste una soluzione militare al conflitto, significa che si potrebbe andare avanti altri quattro anni senza risolvere. Aspettiamo 800.000 morti, aspettiamo un milione di morti. Rischiamo di dire cose ovvie, ma a questo punto, vista la nostra inerzia diplomatica, mi viene da dire che l'unica via percorribile sia la corruzione. E qui noi italiani possiamo far scendere in campo pezzi da 90, altro che jet. Vedete, io faccio teatro e vorrei citare un grande autore di teatro che si chiama Bertolt Brecht. Nella sua opera Dialogo di profughi si parla dell'ordine che impera negli eserciti e si dice che l'ordine significa sprecare con raziocinio. Si butta via un monte di roba, ma è tutta roba catalogata. D'altronde, chi accetterebbe di svolgere le mansioni inutili a cui è costretto se non le svolgesse con ordine? Metti un prigioniero a scavare una fossa, poi digli di chiuderla, di scavarla di nuovo e di richiuderla nuovamente e riaprirla. Se glielo lasci fare come viene viene, quello lì diventa matto, va in depressione o peggio si ribella. Se invece concentri la sua attenzione sul punto in cui deve impugnare con precisione la vanga, non un centimetro sopra, non un centimetro sotto, se gli fai tirare un filo a piombo per andare dritto con lo scavo, se gliela fai richiudere per bene in modo che sembri un terreno intonso, allora si concentrerà sul fatto di aver fatto un buon lavoro. Non scagliamoci troppo contro la corruzione. In fondo la corruzione è una forma di disordine che rappresenta l'umanità, proprio perché l'ordine è disumano. Diciamolo pure, che solo il disordine può salvarci da questo tipo di potere. Le imprese di questa gente qua sono talmente idiote che solo un'esecuzione sciatta e disordinata dei loro piani potrà salvare l'umanità.